Quanti soldi avresti se avessi investito 1000€ in Amplifon un anno fa? A giugno dell'anno scorso avresti avuto 1000€ Ad agosto 1091 Ad ottobre 978 A dicembre 1159 A febbraio 818 Ad aprile 978 A maggio 834 Mentre oggi avresti 639 Il prezzo di un'azione di Amplifon di circa 26€ Su 14 analisti Il 21% affremmo anche un momento per comprare Mentre il restante 79% affremmo anche un momento per mantenere Seguimi se vuoi sapere di più